Come ti chiami? Virginia Fabio Che tipo di ingegnere sei? Ingegnere di ILE specializzato nella prevenzione incendi Ingegnere gestionale specializzato in mobility engineering Di cosa ti occupi in ATM? Della sicurezza antincendio e della progettazione antincendio di metropolitane, depositi, uffici Della gestione dei depositi di superficie Cosa invidi del suo lavoro? Coordinamento La praticità È vero che gli ingegneri sono tutti nerd? No, assolutamente no No, assolutamente no Da 1 a 10, quante nerd il tuo collega? Potrei dire 10, però no, scherzo, 0 No dai, non ti vedo nerd E la tua collega? Due Addirittura? Un difetto degli ingegneri? Pignoleria Sì, concordo, essere quadrati Se l'ingegneria fosse un personaggio famoso, chi sarebbe? Hermione Granger della saga di Harry Potter Perché è precisa, molto quadrata, pignola, negli incantesimi Sì, lei Direi Tony Stark Ingegnere per definizione del fantasy Iron Man Di qualcosa per convincerci che il tuo lavoro è figo? È bello perché conosci tante persone Perché spazi da un edificio all'altro E da attività differenti E poi il mondo della prevenzione incendi è bellissimo È figo perché avere a che fare con persone Con tante esperienze diverse tra di loro Ti permette di arricchirti in quantità importante E da un grande valore aggiunto alla tua esperienza Cosa diresti a una persona che sta decidendo se iscriversi a Ingegneria? Di crederci E di continuare in questa scelta E di affrontarla con la massima leggerezza Perché sono normali i momenti negativi Ma sarà altrettanto normale e bello rialzarsi da quei momenti Quindi fatelo, iscrivetevi Di credere sempre in se stessa Durante tutto il percorso Che alla fine le soddisfazioni le avrà